Ed ora voltiamo pagina e passiamo alla politica. Ascoltiamo l'intervista al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, in merito al Consiglio Comunale tenutosi ieri pomeriggio. Sindaco, ieri Consiglio Comunale, il bilancio è largamente positivo per l'amministrazione che ha portato a casa 10 provvedimenti su 11, l'undicesimo semplicemente da approfondire ulteriormente. Sì, certamente, chiaramente vi devo dire che è un po' di amarezza, cioè stiamo portando in Consiglio debiti su debiti che stiamo pagando. Sicuramente c'è la grande soddisfazione di mettere sempre più in sicurezza il bilancio comunale, soprattutto rispetto a quello che la Corte dei Conti ci ha chiesto. C'è un bilancio più vero nel quale siano ricompresi tutti i debiti che o sono stati già pagati o gran parte di essi devono essere pagati e quindi devono essere finanziati per poter essere pagati. Dall'altra, chiaramente, c'è l'amarezza di un amministratore che vede una città in grande crisi con risorse che vengono sottratte al bilancio comunale per poter dover necessariamente pagare i debiti. Anche questo significa sicuramente amministrare bene, però voi immaginate soltanto ieri quegli 11 provvedimenti, parlavamo di circa, credo, dai 2-3 milioni di euro che di fatto vanno a incidere sul bilancio e non possono essere utilizzate per la crescita di questa città. Bisogna ripartire però in qualche modo? Assolutamente sì, stiamo ripartendo perché il risanamento del bilancio di fatto rappresenta il primo punto di partenza perché ci consente di poter sicuramente poi per i prossimi anni investire finalmente e utilizzare le risorse del bilancio non per pagare i debiti ma al contrario per sviluppare la città. Certamente voi immaginate che per finalmente chiudere i tanti crateri di questa città ho impegnato risorse di bilancio per 150 mila euro e ieri ho pagato 3 milioni di euro di debiti. Quindi è chiaro che l'amarezza sotto questo aspetto è forte.